Il simposio delle conferenze episcopali di Africa e Madagascar deve continuare ad essere un'esperienza viva di comunione e servizio, specialmente ai più poveri. È un luogo di promozione della legalità per risanare le piaghe della corruzione e del fatalismo e favorire l'impegno dei cristiani per il bene comune. Lo ha ricordato Papa Francesco ai venti vescovi africani membri del SECAM ricevuti nella sala del concistoro. Per dare risposte comuni alle nuove sfide del continente, ha sottolineato il Pontefice, i pastori devono rimanere liberi da ogni preoccupazione mondana e politica e mantenere strutture pastorali sobri e senza grandi strutture burocratiche che rischiano di tenere la Chiesa lontana dalla gente. Tra gli impegni prioritari quello per i giovani attraverso l'educazione e la pastorale scolastica. I giovani in Africa sono chiamati a difendersi da nuove e spregiudicate forme di colonizzazione quali il successo, la ricchezza e il potere a tutti i costi, ma anche il fondamentalismo e l'uso distorto della religione. E anche dalla diffusa mentalità di soprafazione e di violenza legata alle divisioni su base sociale, etnica o religiosa. La Chiesa in Africa, ha proseguito il Papa, è chiamata anche a difendere la famiglia dal rischio della disgregazione e sostenerla curando gli anziani, malati e portatori di antica. Qui ha ricordato la stupenda testimonianza di carità data da numerosi missionari africani che hanno perso la vita per assistere i malati del virus Ebola. Tutti questi sforzi di evangelizzazione, a concluso, saranno possibili solo con la conversione interiore. Grazie. 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 Grazie.